Bentornati sul canale Io amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come La cantante Annalisa ha pubblicato una foto in cui accavallando le gambe mostra qualcosa che non dovrebbe Ecco lo scatto postato sui social.Annalisa Gonna Corta.Tra le cantanti di nuova generazione più apprezzate e brave della musica italiana troviamo Annalisa Scarronne meglio conosciuta come Annalisa o più raramente Nali Nata a Savona nel 1985 ma cresciuta a Carcane in Val Bormida, inizia a studiare chitarra dall'età di otto anni fino al 1999 quando decide di prendere lezioni di pianoforte e di flauto traverso per poi dedicarsi quasi completamente all'attività di cantante venendo seguita dalla vocal coach Danila Satrani Annalisa è la foto off.Dopo aver conseguito la laurea in fisica nel 2009 e presso l'Università degli Studi di Torino, partecipa come corista all'album della Satragno intitolato Un lupo in darsena, per poi pubblicare un album dance sotto il nome del duo e la feguatta utilizzando lo pseudonimo d'Isa Nel 2010 partecipa alla decima edizione di Amici di Maria De Filippi arrivando in finale dove vince il premio della critica e si classifica seconda dietro al suo collega, il cantante Virginio Annalisa è la foto hot.Durante la trasmissione esegue molti brani che vengono racchiusi nel suo primo EP intitolato Nali che viene certificato disco di platino dopo poco dalla sua messa in commercio e uno dei brani al suo interno Questo bellissimo gioco, nonostante non sia mai uscito come brano singolo raggiunge la quinta posizione della classifica e viene scelto dopo molti anni per essere inserito nel film Favolaccio Nella sua carriera vanta molte partecipazioni al Festival di Sanremo senza riuscire mai a vincere la competizione canora Il gradino più alto raggiunto al teatro Ariston è stato nel 2018 con Il mondo prima di te dove si è piazzata al terzo posto dietro lo stato sociale con Una vita in vacanza e il duo formato da Ermalmete e Fabrizio Moro con Non ne avete fatto niente Oltre il canto.Annalisa oltre cantare ha anche recitato in una pellicola intitolata Babbo Natale e Non viene da Nord dove interpreta Inglia una cantante di talento che somiglia alla vera Annalisa ed ha presentato alcuni programmi televisivi di carattere scientifico La scarronda è apprezzata non solo per la sua dote vocale ma anche per la sua bellezza e spesso si possono leggere tra i commenti dei suoi fan quello per il suo sex appeal In uno degli ultimi post di Instagram la donna ha pubblicato una foto in cui mette in mostra le sue gambe accavallandole facendo intravedere quello che c'è sotto il vestito facendo infiammare tutto il web Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao